la scena non c'è bisogno di fare nessuna transizione perché tanto è sempre quella rimane ferma così grazie Grazie a tutti. 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 Ti preghiamo Maria perché in questo tempo difficile di pandemia e di stanziamento fisico possiamo essere ugualmente comunità unite che pregano per ogni persona sofferente. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei Cieli, ti è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così interno. Dattiamo il nostro pane quotidiano, diventiamo i nostri erediti, come anche noi deriviamo i nostri ereditori, e non abbandonarci alla tentazione, ma di loro si va male, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli di secoli, anni. O Gesù, bevola le nostre corte, preservaci dal cuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anile, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero. Ave Maria, ave, ave Maria, ave. Ave Maria, ave, 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 ave. Ave Maria, 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 ave. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Signore di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e al Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre volte, preservasi dal popolo interno, porta in cielo tutte le amine, specialmente il Signore della tua misericordia. Maria, Regina della Pazze, prega per noi peccatori del mondo intero. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Un quarto mistero di oggi si contente a Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino di Gesù a lento a presentarlo al Signore, come era scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenico sarà patro al Signore. Ti ringraziamo, Maria, per i nostri pastori, per Don Marco e per tutte le persone che nelle nostre comunità dedicano il loro tempo ai ragazzi per avvicinarli a Gesù, ai poveri per dare loro aiuto e a tutte le persone che soffrono nel corpo e nello spirito, perché non si sentono soli. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia patro alla tua volontà, come in cielo e così in terra. Grazie a tutti, nostro Padre quotidiano. Venga il tuo regno, è 3,5, come in cielo e così in terra. Venga il tuo regno, è 3,5, come in cielo e così in terra. Venga il tuo regno, è 3,5, come in cielo e così in terra. Venga il tuo regno, è 4,5, come in cielo e così in terra. Amore. Ave Maria, tiene di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Adio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi per te, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E al principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amén. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal corpo dell'inferno. Porta in cielo tutti gli anni, specialmente le più risanose della tua misericordia. Maria, Regina della Pazza, prega per noi per il mondo intero. Ave Maria, Maria, Maria. Ave Maria, Maria. Nel punto mistero dolioso si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori del senso. Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del padre mio, sua madre che soviva tutte queste cose nel suo cuore. Affidiamo, arrabbiata Vergine del Salice, tutti noi e le nostre famiglie, perché il suo amore ci renda migliori e le nostre insicurezze e imperfezioni non siano un ostacolo per essere testimoni della parola del Signore. Preghiamo. Padre nostro, che sei a me, che mi chiedi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo nome che ha fatto la tua volontà, come in sé, così in te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri denti, come anche noi li rimettiamo ai nostri delitori, e non abbandonarsi alla tentazione, ma di orarci del male. Amen. Ave Maria, piena di gratte, Signore con te, e benedetta tra le donne e benedetta tra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di gratte, e benedetta tra le donne e benedetta tra le donne, e benedetta tra le donne e benedetta tra le donne e benedetta tra le donne. e benedetta tra le donne 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 e benedetta Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e sei benedetta tra le donne, che benedetta è il frutto del tuo Senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e sei benedetta tra le donne, che benedetta è il frutto del tuo Senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e sei benedetta tra le donne, che benedetta è il frutto del tuo Senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, figlio allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, perdona le nostre colpe, preservati dal cuoco dell'interno, porta in cielo tu le amme, specialmente il Dio, e la tua misericordia. Maria, Regina della Pazia, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pazia, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pazia, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pazia, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pazia, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Il Signore si consegna una morte. Amén. 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 Amé. Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre immirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della Santità Divina, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra Letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rossa Mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Cassa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Aleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Tela del Mattino, prega per noi. Salute dell'Inferno, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrizia degli affritti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profetti, prega per noi. Regina delle Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Veri Cristiani, prega per noi. Regina delle Vergine, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina Assunta in Cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che tolgo i peccati del mondo, perdonaci il Signore. Agnello di Dio che tolgo i peccati del mondo, ascolti il Signore. Agnello di Dio che tolgo i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo dei miei con esseri Cristo. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.